EWC, Pilot's Watches, evoluzione storica, stile iconico e innovazione continua. L'anno 1936 segna un momento epocale nell'orologeria da pilota. EWC presenta il suo primo Pilot's Watch, lo Special Pilot's Watch. Questo orologio è stato una vera pietra miliare, introducendo diverse caratteristiche rivoluzionarie. Lo Special Pilot's Watch presentava un vetro resistente, una lunetta girevole con indice per la lettura dei tempi brevi, un movimento antimagnetico, lancette e numeri luminescenti in forte contrasto. Questi elementi erano essenziali per i piloti, garantendo la leggibilità e l'affidabilità necessarie in volo. Nel 2003, EWC ha introdotto la linea Spitfire di Pilot's Watches in omaggio al leggendario caccia ricognitore inglese. Il nome, Spitfire, evoca l'immagine di un'epoca d'oro dell'aviazione, in cui l'eleganza e la tecnologia si fondono in un unico capolavoro. A partire dal 2006, EWC ha reso omaggio all'opera del poeta e pilota francese Antoine de Saint-Exupéry, autore del celebre Il Piccolo Principe. Con edizioni speciali dei Pilot's Watches, EWC ha onorato la straordinaria narrativa di Saint-Exupéry, che ha ritratto in modo vivido l'era emozionante dei pionieri dell'aviazione. Questi orologi, tra cui il Pilot's Watch Chronograph Edition Le Petit Prance, il Big Pilot's Watch Calendario Perpetuo Edition Le Petit Prance e il Pilot's Watch Chronograph Edition The Last Flight, portano con sé non solo la precisione e la bellezza dell'orologeria, ma anche i valori universali di amicizia e umanità evocati nelle opere di Saint-Exupéry. Nel 2007, EWC ha introdotto un nuovo membro nella squadriglia dei Pilot's Watches, denominato Top Gun. Questa denominazione prende il nome da un corso speciale di addestramento della United States Navy Fighter Weapon School, noto come Strike Fighter Tactics Instructor, famoso con il leggendario nome Top Gun. Dal 2012, la flotta Spitfire ha presentato un design modernizzato, nuove funzionalità e movimenti di manifattura di produzione propria. In questo periodo, lo Spitfire calendario perpetuo digitale data e mese è stato reso disponibile anche con una cassa in acciaio. La collezione Classic continua a brillare con un eccezionale corredo tecnico e uno stile inconfondibile, ispirato all'aspetto di strumentazione di bordo. L'eredità di EWC nel mondo degli orologi da polso per gli aviatori è un racconto di ingegnosità, ispirazione e impegno per l'eccellenza.